Il testaccio che ci ospita qui molto spesso è il grandissimo Fefo sempre presente lì in console. Naturalmente un ringraziamento ancora maggiore ai quattro gruppi che questa sera si eseguiranno. Abbiamo come primo gruppo gli Etrusca Jazz, un applauso ancora più grande di quello precedente. Grazie veramente. Questa sera si è qui non una serata normale di anime di carta, ma una serata a rock theater, una serata in cui mettiamo insieme la follia, la pittura, l'arte, l'arte a 360 gradi, la musica e un po' diciamo l'interpretazione, l'animazione e soprattutto voi stessi. Grazie ancora di essere qui presenti e vi aspetto qui anche alla prossima serata rock theater. Naturalmente la troverete sul sito di appunto questo locale, il contestaccio. Grazie ancora e buona sera da tutti quanti.